La mancanza di popolarità del principe Harry negli Stati Uniti è stata suggerita dopo che solo il 25% degli americani ha dichiarato di essere interessato alle sue memorie, secondo un sondaggio. Lui e Meghan Markle questa settimana hanno rilasciato una dichiarazione in cui affermavano di essere affranti e spaventati per le crisi umanitarie in corso in Afghanistan e Haiti. Harry ha un interesse speciale per il paese dell'Asia centrale. Avendo prestato servizio lì durante il suo periodo nell'esercito. La dichiarazione era caratteristica dell'interesse della coppia per i diritti umani e del tentativo di rendere il mondo un posto migliore, riflesso anche negli innumerevoli progetti a cui stanno lavorando. Come parte dei loro accordi multimilionari con Netflix e Spotify, hanno promesso di realizzare contenuti originali che porteranno ispirazione alle masse. Harry sta anche lavorando al suo tanto atteso libro di memorie, annunciato il mese scorso, che sarà pubblicato il prossimo anno. Ha colto molti di sorpresa, con gli osservatori reali incerti sui contenuti del libro, suggerendo che potrebbe essere simile nel tema alle sue recenti interviste rivelatrici. Mentre abbondano gli intrighi nel mondo dei commentatori reali, un recente sondaggio di Hugoff ha suggerito che né i britannici né gli americani erano molto interessati al libro di memorie. Secondo il sondaggio, pubblicato a luglio, solo il 9% degli americani ha dichiarato di essere molto interessato al libro mentre il 16% ha dichiarato di essere abbastanza interessato. Ciò equivale a solo il 25% delle 7585 persone intervistate in tutto il paese interessate al libro. Più significativamente, il 51% degli intervistati ha dichiarato di non essere affatto interessato, mentre un 17% inferiore ha dichiarato di non essere molto interessato. Punto. Nel Regno Unito, una percentuale ancora maggiore degli intervistati ha dichiarato di non essere affatto interessata al libro di memorie. Il 67%, brutalmente, solo il 3% dei britannici ha dichiarato di essere molto interessato. I rapporti suggeriscono che la famiglia di Harry è in ansia per il libro di memorie. Si dice che suo padre, il principe Carlo, e suo fratello, il principe William, siano nervosi per ciò che potrebbe contenere. Il mese scorso, una fonte vicina alla situazione ha affermato che lo studio nel suo insieme è stato scosso dall'annuncio.